salve a tutti i ragazzi sono l'orca e vi do benvenuto a questo nuovo filmato in cui andiamo ad analizzare questo pack di mani 8158 non tantissime di iro che sarà oggi how i back your mother per cui bellissimo nick l'ho già incontrato ai tavoli ci siamo incontrati anche su twitch se non ricordo male simpaticissimo personaggio che mi ha mandato questa mani comunque con otto e pvb linee di gioco leggermente nitti ma si parla di comunque 20 mid stack di di poker disney per capirci se avete bisogno fatemi sapere ricordatevi che abbiamo nel nostro crazy team a posizione anche se questa divertentissima room comunque andiamo a vedere un po cosa combina il nostro iro io realtà le mani già vista in anche già segnate alcune giusto per essere più preciso e scattante in questi video ok allora linee di gioco paghiamo 206 direi che rispetto ai 140 vinti è relativamente tanto infatti ha notato che iro tende a bloccare abbastanza serenamente non è che si faccia tante storie le manda serenamente pre flop il range non è particolarmente grande il nostro il nostro di gioco si tende a fondare poco e a commettarsi un po spesso post flop è vero che siamo uno steak abbastanza morbido con tanti occasionali tanti giocatori di stack ovviamente gioco shallow ci mancherebbe solo e però vedo che ci sono spot dove potremmo abbandonare siamo un po al limite ma andiamo a pagare veramente tanta tanta rei che rispetto alla profit che facciamo ci creiamo un po di varianza in più comunque apriamo un attimo una mano qualsiasi così da vedere un attimo il profilo distanza e capirci un attimo allora linea 20 17 bassissimo il gap di col bassa la base verso smith hanno visto veramente pochi col questa è una cosa da tenere in considerazione in un tavolo di questo tipo dove abbiamo un giocatore non sa neanche non credo che lo definirei regna un 24 12 4 è un si so che non suona bene ma un po quel profilo smart fish cioè un non un fish 50 0 un fish 60 10 quei tipi di giocatori che comunque circa delle carte le stanno giocando qualcosa iniziano a percepire di questo giochino e quindi un profilo di questo tipo poi abbiamo un giocatore 60 10 un giocatore 50 0 e poi un altro paio di profilo reggish giocatore 24 22 un giocatore 20 15 ecco e le nostre linee di gioco sono un po una via di mezzo dovremmo quasi sicuramente alzare un po le nostre linee di race first in abbiamo un 31 di media apriamo abbastanza da averli un po poco da mid tra l'altro visto qualche combo e poi se le avrei segnate solo un paio perché è inutile segnarne 10 dove apriamo un po fuori range un po perché non lo so probabilmente c'è un trasporto emotivo la voglia di giocare dubito che sia un problema di costruzione di range generale perché per il resto visto fare abbastanza bene dobbiamo comunque pensare che dovremmo aggredire un po di più da late vediamo per esempio anche giocatore con arbert arbert bre mamma mia alle 7 di mattina non si può avere un nick del genere lo sconsiglio non fatelo perché mi mettete in difficoltà comunque linee di over fold no generale 75 per flop si fondano troppo i bui anche qui abbiamo 65 di fold questo giocatore difende un po meglio i suoi bui senz'altro ma dovremmo aggredire un po più spesso questi profili che fondano un po di più perché le loro linee rosse saranno abbastanza drammatiche noi vogliamo andare ad approfittarne aprire una media del 35 insomma da bottone 31 di media di stile un po bassa possiamo ridurre un po deve aumentare un po di late vediamo nelle linee di freeback plus dove si tende a fondare poco e no 35 for back plus 25 ferbet ok ma pensare a tipo quattro mani immagino vediamo una su quattro queste stats scorso così poche mani non ci interessano comunque si tende a fondare poco a resare con l'idea di committarsi ora è vero che siamo contro un giocatore 34 bui e limpa noi risiamo isoliamo il nostro a su 10 questo tizio manda la vasca e siamo anche in difficoltà che facciamo veramente fondiamo 20 bui sì probabilmente si basterebbe capire no che tipo di ringgirano e quanto il dobel vi della nostra se faccia più soldi chiamare o fondare questi quattro bui e accontentarci di questo meno 400 per di cento comunque di fuori delle linee foldo poco mi commetto serenamente qualche linea di apertura un po forzata per il flop a proprio il resto la difesa ok blend versus blind in over fold questa è una cosa che consiglio a way back your mother presa prende un po di materiale sul brand versus blind e se bisogno girami la mail di google che ho una serie di video prodotto per i ragazzi del team gratuitamente così come gilderoy all'ocche diceva di harry potter quando diceva basta dire sciocchezze a mattina comunque fa dammi la mail e che almeno guardi la serie di video sulla costruzione teorica del brand versus blind e poi la puoi anche mettere giù un po più tecnica un po neanche tecnica un po più operativa dove semplicemente avrai tre range a seconda dei tre tipi no di giocatori che affronti poi vai a spostarli un po perché qui stai concedendo parecchio generale dei tuoi delle tue linee di gioco generale quella dove si perde un po di più la linea nei singoli potete ok andando a vedere anche questo c'è che c'è col flop e un guante c'è da un alto quindi attenzione ho visto tanti spot dove siamo un po passivi e lasciamo correre e non fondiamo più dopo ma non è neanche la cosa più importante sui cose poche mani su questo c'è col flop alto esprepro preso ho visto comunque tanti spot multi way alcuni dove non sapendo bene quel che stai facendo non so lanci le tue over e quella su quel board 2 3 5 e siete in 4 al flop a volte di vatti a volte vetti e raramente fondi comunque è però spesso cerchi di commettarti in realtà non è terribile se il pot 20 bui e l'oppo a 20 bui perché nel senso se anche solo una volta su tre cioè su tre volte il 33 per cento delle volte ottiene un po una pole d'equity che ti porti almeno 33 per cento quindi non so il 25 per cento delle volte o qualcosa l'otto per cento fonda siamo già al 33 e quando dopo chiama con di solito comunque va bene su un board del 5 4 3 a volte gira su quattro su 58 3 quindi il nostro asso non è buono ma ci basta nasce era abbastanza basso per vincere questa mano essere nevi chiaro che se siamo in tre la situazione diventa più complicata se abbiamo una lettura sugli occhi per esempio dottori abbassa tribet un po nitti avranno molto più spesso delle coppiette in mano e l'amu diventa ancora meno il vip sulle linee di cibet relativamente alte flop car nei singoli del pot ma su poche mani ho visto comunque che si tende a mettere spesso a cambiare spesso size di tribetati possiamo mettere un po più spesso ma più che altro possiamo mettere con un po di criterio in più e ho segnato poche mani perché me ne bastavano un paio giusto per capire una linea di fulcibet una linea di full check se vogliamo adottare queste linee abbassi molto la frequenza soltar ma questo perché secondo me flop non trasporti col tp che ti permetterebbe di ottimizzare bene il resto in generale la river betta è nella parte bassa ma contro il film sembra piuttosto buona la bat verso smith e non è neanche da argomentare perché capricola è molto piccolo e qui una cosa cerca di tenerlo un po più grande in generale soprattutto quando sei in posizione avanti a range contro i giocatori un magari un po più agri che fanno pre flop con le sezioni un po più piccole lasciando magari nel piatto giocatori come questo 9 3 5 3 4 4 3 che di questi ragazzi così da giocare più spesso i p avanti a range e posizione lasciando magari un range dominato in mano a un buio fish chiaramente chiama meno quando è uno sport reg che ne approfitta ma questo steak non approfittano vedere scappati quando abbiamo chiamato fish questo giocatore a 4 di squeeze questo giocatore gioca le carte in sostanza quindi non ci preoccupiamo lungo dialogo a parte andiamo a vedere direttamente le mani quindi torniamo in overall che ci piace e andiamo a mettere le mani marcate magari mettendole tutte se non ne vediamo un gran poco e se non ne vedo tutte allora non c'è un criterio ci sono mani da 30 bui ci sono mani da 50 bui sono mani da 100 bui un po di tutto di più quindi ordiniamo per net one per vedere prima quelle gigantissime ok non ci interessa niente tanto noi non non interessa troppo la mano specifica non interessa più che altro no la costruzione generale il nostro la costruzione del nostro think in process all'apertura due mezzo per giocatore abc che i 25 15 5 alto for pre flop profilo it or for post flop e ogni volta che analizziamo le mani cerco sempre di ricostruire linea generale che possiamo avere in questa dinamica range specifico verso stress e adattato al profilo dei nostri avversari collettura delle dinamiche per esempio in questo contesto il nostro hop apre 22 23 circa un 25 per cento da questa posizione contro questa posizione la mano è sicuramente giocabile i nostri blinds sono due giocatori nitti più fish da bottone di profilo 30 10 0 passivo se noi ci pensiamo in questa dinamica è uno spot dove siamo un po al limite per la linea di con il range perché abbiamo due rag dai blinds in più abbiamo fish che gioca in posizione su di noi ma il nostro oppo sia una ciletta alta però un check fold altissimo una ciletta bassissima tale un profilo passivo quindi di va per a tantissimo poi arriverà lo show dan con tutte le sue per e invece si troverà ci mettere meno perché c'è anche efficiente alla mano fisca un 30 10 0 quindi ribettare qua gli farebbe fondare ma ne come già 10 jack 9 jack 8 k2 suited può essere uno sport interessante da chiamare ricordiamoci che abbiamo due blinds di profilo reggis quindi diventa sempre meno interessante se al posto qua di sibillini che è un giocatore che un po nitti non si preoccupa tanto c'è ci dà veramente a pocazione ma ci fosse stato un altro giocatore di profilo 50 10 con bassa delle bets avrebbe stato un ottimo call in posizione comunque decidiamo per le altre bet mi va bene size siamo un po nel lato basso in realtà almeno per carità qua siamo i primi va bene anche ridurre un po la size ma andiamo verso almeno il 3 per 3 per mezzo andiamo almeno 8 bui qua il nostro dopo comunque over fall da pre over fall da posta un profilo piuttosto nittish di certo non è male mettere questa mano sostanzialmente nel nostro ring di bluff comunque in sostanza visto il profilo di giocatore non inizierei a mettere combo un po a caso tipo k9 off k2 suited perché saremo veramente troppo aperti di range con troppo sconto di equity a sinistra per sconto di equity intendo che c'è la possibilità che ogni giocatore alla nostra sinistra possa dare azione anche solo un 5 per cento a testa noi andiamo a mettere questi 8 bui il 5 per cento delle volte per giocatore veniamo rilanciati dobbiamo fondare non nostro campo a due suite di quello che è uno sconto di equity perché perdiamo il 15 per cento di questi 8 buona l'idea comunque ok non fuori da origine al reso che è un profilo nitte abc over fall flop basso tarni in generale quindi profilo veramente face up su questo board dobbiamo ragionare allora siamo contro reg siamo contro un reg molto sbilanciato per carità però su questo board e questo mi rifaccio alla nostra linea di cibette questo è un pessimo board da avere una linea in cui avere una linea di full cibette se fosse un board di vantaggio di range pensiamo lasciamo stare che abbiamo capa jack nascondiamo la nostra mano tenendo premuto contro così non c'è più e esce un board asso 4 2 a 2 2 2 addirittura anche se insomma stiamo andando proprio a prendere i migliori board della storia contro un giocatore di questo profilo e senza pensare alla mano su un board asso 4 2 possiamo cibettare serenamente cento per cento delle mani tenere 6 piccola e far fondare tantissime mani come capo a cup a jack jack nella media tanta 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 roba difenderà e un po di connector eccetera difenderà solo delle coppiette che poi tende a non fondare più delle top air che tendono a fondare più quindi pensando al resto del nostro range quando noi chiamano stato per voglio mettiamo tre strade se siamo abbramentato il nostro site possiamo anche alzare size flop apposta perché oppo non ha un range elastico quindi se difende la sua sottopera difende sia che facciamo tre bui sia che facciamo 12 bui per intenderci e parlo circa di un po da 12 bui su questo board normale e tipico apre lui noi tributiamo lui chiama lui su questo board può avere di cui 10 suite del jack 10 suite del 99 88 jack jack visto quanto poco for betta asso jack k jack jack tutta quella pappardina no di carte alte compresi anche le capo suite che non forse era qui quindi qui e sarebbe saggio cerchiamo l'intero range avendo in cerca anche mani come 99 88 jack jack e allora facciamo sì che al tarne non sarebbe lo sia mai cappato abbiamo tutto tutto quello che avevamo il flop abbiamo anche al tarna e scegliamo la linea full check su borde dove range di oppo è forte oppure che splittiamo i nostri range e facciamo una size più grande e meno spesso è chiaro che qua se abbiamo una mano come 88 considerando il board mi aspetto che ho pochiami veramente tanto quindi su questo pot che è rimasto piccolo ma è per capirci su un po di 15 possiamo bettare 12 bui e bettare il città 35 per cento delle volte sostanzialmente sbilanciando il nostro range tecnicamente lo potremmo polarizzare con qualche mano con asso 10 eccetera ma non è importante l'importante è che stiamo creando una strata esploitativa contro un giocatore esploitativo l'importante è non fare una size piccola magari una bet to call per commettarsi flop o giocare in maniera diversa dalla nostra strata qui mettiamo una size piccola che non è buona perché non è né l'una né l'altra se non abbiamo ne ha dotato una linea di vantaggio di range ne ha dotato una linea di frequenza minore e size più grande ne ha dotato una linea di full check ne ha esploitato il nostro avversario che semmai visto che è overfolda e abbiamo intanto la nostra topea in questo caso che è ancora avanti a range dopo può avere dei q jack e degli assi 9 può avere ancora di 10-9 suited eccetera non è dire da una parte o dall'altra questo è un problema tra troppo c'è cresa ed è un giocatore di questo profilo con 60 di full flop abc che potrebbe avere anche dei donna a donna in mano per intenderci dal profilo di gioco dei jack jack 9-9 degli 8-8 dei 10-10 magari al limite potrebbe arrivare a giocarsi così un 10-10 un po in non so che fare ma questo semmai è un petto fondo se noi qua abbiamo anche una mano come asso 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 blocchera su jack e li lascia tutti i set probabilmente peggio anche se qui in effetti contrasto jack siamo veramente sotto il treno ma bisogna ragionare che si blocca se no che abbiamo e qui k jack è tipo la peggior cosa perché l'unica mano che battiamo qua è tipo un q jack magari un jack 10 e stiamo comunque bloccheranno entrambe non è quello che vogliamo invece bet to call da un asso che migliora ancora di più i suoi range quindi se proprio si sta inventando qualcosa come una soggetta cuori sono adesso già capore non può verla perché lo stiamo bloccheranno ma quando beta sull'asso che migliora il nostro rende dal suo punto di vista qua ci gira veramente sempre solo scala set qualche rara doppia ma è strano perché sull'asso onestamente non credo ne abbia così tante ma non è possibile magari una soggetta e qui andiamo pure a collare un po perché abbiamo intanto la peale ma non perché abbiamo una lettura sull'oppo che fra trovo per fall da flop passivo tal venti da crescer pre questi sedici di river bet profilo super concessivo mamma mia questi nick la mattina terribile in questo caso appoggio la 99 mi raccomando nella mani in sé ci abbiamo messo dieci minuti a commentare questa mano è il board la scelta pre flop le letture che sui nostri avversari il resto delle dinamiche dei tavoli la consapevolezza dello sconto dell'equity l'ottimizzazione del range la polarizzazione bottom range di difesa che può trasformarsi in blef la linea al flop su questo board la scelta tra le nostre strategie è un po non dico complesso è questione di essere abituati in sostanza è stata una domanda che mi è stata fatta credo nell'ultimo live di twitch prima di che ci mettessimo a massacrare i voti in sostanza che mi dicevano ma come faccio io ad avere tre strategie diverse che cambiano secondo dei giocatori beh come fai stai giocando a poker e sono tutte informazioni che hai davanti agli occhi no l'importante essere coerenti con quello che si fa così che tutte le volte che si sbaglia ed è naturale sbagliare si possa andare a migliorare la performance e il nostro valore atteso all'apertura 2 col decidiamo per uno squeeze a 66 per mi va bene siamo usciti in size lunga ma siamo deep stack in generale considerano anche tavoli mid stack e contro un profilo fish 70 20 che apre per due e fonda molto poco quindi tutto bene chiama uno folda l'altro su questo board scegliamo una size 6 ora in realtà è vero che siamo deep siamo qui e siamo su questo board dove ho poi aperto per due ha chiamato quindi quando fish apre per due chiama di solito quando apre percebo per quattro e chiama generalmente tende a girare quel range medio alto quando fa 6 piccola e chiama senza ri resale chiaro che se mi resa tu ri resa di solito ci gira le bombazze sacre ma in questo caso resa chiama qui ci può girare dei 67 no tutta quella parte mid non fortissima su 76 756 magari anche delle per senz'altro in realtà vi aspetto che questo giocatore fondi pochissimo da profilo non solo per il tipo di range piano apertura per due più col su questo board ma anche per il profilo a basso fold strana questa river bet alta non troppo in linea col profilo generale che emerge da statistica ma non ci curiamo di 70 mani a noi interessa un'idea no è un 70 20 che aperto per due vediamo zero di forne tribettati non abbiamo altro da aggiungere su così poche mani in questa dinamica potremmo in verse se fossimo contro altri range pensiamo di essere ve lo dico solo per trasportare tp abbiamo aperto da bottone e ci ha chiamato lui da big blind su questo board normalmente ma magari non lui un regga apriamo da bottone in un'altra mano abbiamo la bottone chiama regga orai di cerca su questo board potremmo tranquillamente cercare da una donna piuttosto che andare a mettere possiamo sicuramente bettarla con una size biggish se abbiamo qualche motivo per farlo ma pulceccare mi piace contro un giocatore di profilo finish di sicuro non pulcecheremo non abbiamo un motivo di implementare una size un quarto posto in sostanza in questa dinamica siamo pure deep è un bordo dove voglio mettare e mettare di più chiaro che siamo molto deep senz'altro ma dobbiamo pensare a quanti errori questi giocatori fanno preflop e flop sempre flop andiamo in 6 per in squeeze per esploitare errore allora è flop come facciamo a fare se vuoi dove qua oppo le mette tipo al 15 per cento e una mano come asso 6 abbondantemente la percentuale di batterci comunque chiama turn k non un granché ma non di certo e peggior turn dovremmo voglio mettere ancora visto il profilo del nostro avversario poi invece andiamo a cercare oppo check a back river 6 un disastro no mini race più call su questo board river casca 6 che migliora abbondantemente il suo regno mani come 6 8 6 7 5 6 6 8 siamo ancora buoni 9 ha fatto scala dei tre anche senz'altro perché no asso 3 cuori asso 3 quadri abbiamo abitato troppo e poi abbiamo cercato quindi il peggior turn possibile della storia avremmo dovuto normalmente voglio mettere flop voglio mettere tarn sul 6 valutare l'idea di black cazzare se abbiamo un'informazione su questo alta river bet può avere senso se chiamiamo a 60 di river bet su 50 mani non è una buona spot dobbiamo pensare che tarn non è un gran che ma ancora buono nel senso che dopo avermi risate chiamato non ha decisamente molti capo il 6 invece un disastro perché 6 3 4 3 5 3 7 3 8 x doppie coppie di tutti i tipi scale di tutti i tipi la nostra action gliele lasciate tutto in mano poi andiamo a cercare dopo tira la bomba stano porta river e serve che pensare che lui sta pensando che noi stiamo pensando e oppure avere comunque una salda nota sulla sua size quindi sappiamo che porta i blef e becca le schieri nel senso che non è che gioca completa gioca abbastanza caso ma cerca di bleffare i bordi non solo a caso quando vedete qui un po forzarsi il problema è proprio ok abbiamo alzato size flop abbiamo ridotto sai quando era d'alzare car non abbiamo voglio bettato in un tan che non migliora la sua equity river siamo andati in check call pot size sul peggior river possibile no in sostanza è vero che anche il 7 non è un grande come river il 6 non è un grande 6 è quello che è uscito l'otto anche non è un grande come river ma in linea di massima sono i peggiori river per chiamare cuopo girasso 3 legit ma alzare flop alzare turn lasciamo stare che poi su 6 era comunque il disastro su un sacco di river andiamo a fare un sacco di soldi black cazzare river è più facile non su questo river ma tra l'altro ho detto beh mi guardo le mani prima così da metterci meno a registrare ci metteremo un secolo ma sono spot interessanti in linea con il nostro profilo di raggiungere troppi showdown di giocare passivi in generale dopo di non costruire al top le nostre linee di cibetta e bla 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 allora è il nick di un giocatore non è che l'ho detto a caso allora l'imperino un 54 1 80 mani quindi solo profilo un 50 0 alto fold molto passivo una sorta di station pre flop it or for estremamente passivo attenzione questo river bet su 80 mani non vuol dire niente è vero che è alto ma per sapere cosa vuol dire questo river bet ha visto che abbiamo tanta mani su di lui dobbiamo avere una nota non ci bastano le stats per dire che questo tizio river ne spara a gogo l'altro giocatore leo escobar giocatore di profilo abbastanza spigli in generale 80 50 per flop un po mattarello in generale quindi attenzione vi tirerà la pasta e post flop è abbastanza agro ma non esageratamente agro comunque profilo agro cioè rispetto agli agri di pipo a questo tizio non santarello comunque check check ora siamo in three way quindi di base non è che devo adottare grandi principi di gioco di gt o abbiamo anche l'asso di cuori è chiaro che qua in questa situazione abbiamo isolato pre flop in un range di link call e con gli giocatori catici check check qui facciamo soldi anche mettando una size piccola perché il board è talmente asciutto no capo 82 che riusciamo a ottenere la full deck di richiesta per far soldi seccare qua se siamo i p contro giocatori di profilo spigli non è un disastro perché rinforza il range di check mettare contro l'altro giocatori per sol fa soldi no il punto è che se siamo e zap è facile la scelta cioè mettiamo contro questo cerchiamo contro questo quando siamo in due dobbiamo essere consapevoli di questi due giocatori che impongono due strade diverse decidere la move abbiamo 69 list è che se vogliamo conservarlo lo capisco perché è magico quindi può essere una scelta sicuramente almeno è sensata praise the 69 quindi mi va bene alla bet mi va bene il check ma sempre con lettura check per rinforzare il range contro leo e scobarra e oppure bet anche per prendere full equity da 60 31 tra la bravo ecco mi raccomando non andiamo a cercare problemi a scacciare questo tizio semmai bene facciamo l'altro non andiamo a mettare per far fondare questo tizio che è come idea generale comunque tanta a scasso check pot size bet del giocatore più passivo della storia del poker in generale ora la sua storia breve è un infante nel poker mai un giocatore che tende ad avere pochissimo rinforzare betta sull'asso e ha cercato flop quindi cosa può avere degli assi due degli assi otto dei bravi degli a k non è impossibile visto il profilo ma meglio aspetto perché flop 22 si potrebbe giocarlo uguale 4 e 5 a cuori non è nel suo profilo ma giusto per capire jack 10 a cuori non è nella sua linea di gioco passivo passivo interfold eccetera eccetera chiamare qua non è un disastro ma dobbiamo avere pronto il freno a mano river per saper fondare e river ice 10 ne posso difendere però ricordiamoci batta veramente sulla sua dura sotto e k8 forse lo don betta flop comunque una difesa un po al limite posso difendere fondi dell'altra il cane impazzito casca donna oppo pota equa c'era tipo doppia o più come per come l'ha giocato 7 doppia non credo scale perché l'unica mano che potrebbe giocarmi così magari è già chi dice a cuori però è veramente forzata e non credo che tarn uscirebbe in bet così alta con un bro quindi saper fondare in questo spot perché non vinciamo il 33 per cento ma il problema non è questo con la river è un po il tarn quando c'è la scelta al flop che ci porta blef cacciare tarn contro questo giocatore che può tranquillamente girarci asso jack asso cuno per come giocassi come proprio come bottom range intendo ma secondo me qua gira un asso 2 gira un asso 8 no come tipo di mani limpa poi inizia a bettare quando batte la toppe a quasi rasso 2 ma qui ci siamo andati un po a scavare no l'idea della nostra possibilità l'altro l'alto guanti showdown nella tendenza a pagare tanto reica in queste dinamiche che non è il top vediamo qualche altra mano dovrei andare un po più spedito perché sennò la mattina vola e la mattina loro in bocca disse il mio dentista allora cosa succede qua abbiamo isolato con nove suite di isolato rilanciato va bene leggermente l'uso come scelta da questa posizione non può andare e fra l'altro in questo tavolo ne va sicuramente bene abbiamo fiste blinds altro circa fish che è contro i vaccini a quanto pari da small blind è un complottista novax e bottone ha messo che esista questa categoria vi assicuro che esista ho conosciuto un paio di persone che se la pensano esattamente così ma adesso non ne parliamo fish 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 mano che rilanciamo sicuramente con un buon motivo chiamano in due buono il board usciamo con questa size che non è nulla nel senso che due bui qua e come dire venite venite ingrossiamo il piatto in realtà io direi che se vogliamo mettare e mi può andare alzerei size creiamo facciamo pot building con una mano forte abbiamo quattro quinte colore to the max quasi to the nats comunque super buono abbiamo anche un render render di scala non male però mettere un po più forte check 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 call the fold per naso che è un po un disastro c'è un disastro non cambia la fold equity se non ha fondato flop questo tizio non fonda tarn abbiamo ottenuto il piatto molto piccolo abbiamo soldi dietro andiamo in overbetto l'inshamalaya ecco ho visto altri spot questo l'ho messo solo perché ho visto questa strana move che sono andata a vedere no guardando qua intanto che scrivo le mani vedo race bet bet e siamo con lino lina sul tarn in questa dinamica cosa è successo qui perché siamo non lì sono andata a vedere ecco capita che ci siano questo per bet ora siamo contro fish quindi anche difficile di costruire no un nostro tp preciso e perfetto dubito insomma dubito non riuscirei in circostanze normali figuriamoci in questa ma è chiaro che quando usciamo in mega overbetto su un tarn che non riduce la nostra il nostro full equity non cappare il nostro avversario anzi in sostanza non ha mai un range cappato qua e andiamo proprio in overbetto qui mettiamo cinque volte il pot quattro volte il pot insomma in sostanza se hop ci batte anche solo una volta su cinque fa salvi lui no e una volta su cinque qua quando ho poi immagino non sape fondare un jack non dovrebbe motivo di farlo ancora degli assi in mano può avere anche mari come per intenderci capa 10 picche qualsiasi flash draw al capa che ci sta pure battendo andiamo a mettere troppe veramente troppe volte le dietro poco chiama l'asso e si sa che l'asso non si fonda mai è un po una regola non scritta dei tutti i giocatori di questi stake ma attenzione che siamo stati noi a prendere una linea assolutamente suboptimal con mini bet flop overbet turn l'ho segnata non perché sia una move standard ma l'ho vista ogni tanto c'è questa move dove ogni tanto c'è un limp limp bam o l'indiretto pure flop mano legittima tra virgolette non so un po una linea nitty over player che era quella che volevamo arrivare ecco guardiamo anche questa dinamica sotto le suite l'apertura piuttosto standard mi va bene questa size non andrei a lavorare sulle tue size per flop anche se ne ho vista qualcuno un po cambiata mi va bene ricordati che in un tavolo del genere mi va bene anche una size più big range legge ma neanche tanto più piccolo però una size un po più big perché sei contro un giocatore che ha 100 di vp un altro giocatore che ha un 40 20 che non tribetta mai è un reg super nitty quindi in realtà una size più grande fa semplicemente più soldi e magari fa fondare qualcosa in più dubito comunque giocatore che gioca a tc e mini tribetta qui se noi chiamiamo se stiamo mettendo un buio su un po di sette bui e facciamo chiaramente sempre soldi no se noi resiamo stiamo mettendo 50 bui e quello che accade 50 bui su un pot di 4 bui ok quindi una stack to potrezza bisogna contare in altri in altre dinamiche ma è per capire che stiamo investendo 20 volte le dimensioni del piatto quindi una volta su cinque da parte come concetto di mdf se un po difende anche solo una volta su cinque da buono lui stiamo perdendo soldi no e non c'è nessun motivo qua di overplayare l'ho visto in altre dinamiche in altri spot dove non sapendo ben quel che si fa oppo mini don bettano il reso poco mini don bett reso un po colbito abatto all in ecco il problema è che su quei tre bui messi dall'oppo ne abbiamo messi 80 noi che non è quello che vogliamo quindi riduciamo queste dinamiche questo è un po che fa soldi se noi qua avessimo due due tre tre apriamo col mini raise col col è inutile andare all in con mani di questo profilo che non fu non fanno fondare l'oppo il valore post flop è semplicemente troppo più grande popo chiama fratto su questo borda la nostra mano avrebbe anche espresso tanto tanti di ma su un po di tre bui fa molto più soldi che non l'impre flop un copo qua chiama 55 quindi abbastanza l'uso il rendi di colma giocatore che al cento di vtp e mini tri betta pro flop quindi come idea avrà un regio proprio piccolo questa è una linea di over plane cioè sostanzialmente stiamo alzando la voce contro un sordo si può anche fare ma se non gratifica noi di certo non gratifica lui che non ci sente apriamo per tre va bene ma poi 50 10 10 50 di fall flop piuttosto passiva il fish medio ok non perché ce l'ho con salvo enix xxx evocatore del demonio in un tavolo da poker ma perché è un 50 10 che fonda 50 piuttosto passiva il tipico frisce medio se ne prendessimo tutti i fish di questo livello e andassimo su insomma per farlo studio del field avremo un giocatore in media che viene circa lui quindi è medio man allora su questo bordo optiamo per una linea di beta 2 oppo resa ok e sul volo sull'idea ha senso abitare non ha senso bettare in linea di massima siamo oppi siamo contro giocatore ultrapassivo si può anche voler cercare ma e se noi seguiamo la nostra linea normale qui direi che possiamo anche mettare porto l'asso abbiamo anche i tre punti scala per cui di colore e board comunque un asso 6 3 mi va bene anche bett ma quando oppure risa è un 50 10 19 di aggression frequency cosa resa quando troppo proprio come bottom range questo bordo aspetto 45 a cuori 52 a cuori quindi non solo 4 quinto colore ma anche un progetto di scala di supporto ha una bassa tribet quindi tanti assi in mano 6 6 3 3 asso 3 asso 6 improbabile i mani a parte che sono bloccherate ma per capirci 7 7 8 8 9 9 generalmente giocatori di questo profilo si è chiamata la coppia non va a risale quando cade l'over card comunque range forte quando noi siamo siamo op op a questa size forse complicato foldare flop ma con 40 bui dietro i tre quinti più tre quinti di un giocatore così è un po al limite la difesa si difende can cascalotto che si ci dona un incastro di scala ma non l'altro c'è coppetta questo punto di partiamo op beta 4 a questo punto noi resiamo river 4 che è pure cuori ed è pure 4 no per cui chiude qualche doppia se mai 8 potesse avere qualche incastro più coppia ma molto improbabile visto profilo comunque chiude delle scale chiudete non so 52 per esempio ma 52 è probabile che semmai ce l'abbia cuore quindi c'ho fatto scala colore comunque chiude i cuori le doppie opone le folda l'asso oppo non lo folda la top per non la folda tra l'altro 20 bui qua quindi tutti gli assi ci chiamano i cuori ci chiamano scale poche se devo dire la verità su questo quattro perché dove avere anche scala più dro di colore per giocare in questo modo quindi veramente resta tipo 52 tipo nient'altro e comunque noi andiamo in battaglino pochiamo quasi lasciato per legittimo dal suo punto di vista cioè chiama pre flop ed è passivo resa flop perché la topper beta piccolo perché alla mano decente chiama river non folder a questo tipo di mani qui siamo andati noi a overplayare contro il giocatore 50 10 19 di agression 3 questi con il nostro 8 alta ora un po complicato magari fordere flop ma se diciamo che la mano al minimo di equito per passivo quindi al punto quindi quando diciamo veniamo pagati ma un po 40 bui e poi noi altare andiamo a metterne 20 di lui un po a caso senza foglietti stiamo un po perdendo alla lunga ora open si ripete il giocatore ultra passivo che però make money quindi fa soldi chiaramente e il virus good ma va bene questo è un virus benevolo comunque raise to open to raise più call va benissimo il call in questa dinamica ma sostanzialmente in set value cioè quando mettiamo 6 bui su 20 quindi 6 12 su 18 abbiamo già tre porzioni per flop ce ne basta recuperare quattro per fare soldi quindi ci sono almeno altri 20 bui da vincere post flop di stack anche se solo vinciamo il 50 per cento di queste 40 bui siamo in evi più gli altri soldi che i set value ragazzi quindi chiamiamo va bene volperato oppo qua tira la sua bet e questo tizio a 4 di tribet 30 di continuation batter flop 20 di aggressività flop stabilità nel faccia due giocatori bottom range che riesca a dare quando troppo ammesso che tribet ea soggetto a cuori ea soggetto a cuori come idea quindi a tutte per e over card a cuori non a caso magari a cappa picche ma questa proprio gliela stiamo forzando in mano visto come gioca non me lo aspetto quindi a tantissima volta una coppia rarissime volte c'è un paio di volte pensiamo che abbia diamogli non so quando non importa quante come li diamo ma l'idea che di combo suite ne avrà due tipo a cappa q se proprio a jack comunque due o tre di coppie ne avrà una quindicina no che ci sta battendo forse 10 10 e qui si può fondare brutalmente difendere qua non servono grecche fratto tanto e casca 2 oppo manda la vasca è il giocatore più passivo nella storia del poker 30 recibet flop è vero che li barella sempre tal ma qua di nuovo il bottom range se proprio a capa cuori come unica combo che ci stiamo tra virgolette battendo ammesso che si pensi di essere in vantaggio a contrarcappa fuori qua comunque chiamiamo e opo gira sasso ma qui siamo andati noi mi va bene col pre flop in set value to fold flop se non miglioriamo è chiaro che se miglioriamo oppo paga sempre ma se noi poi andiamo a mettere per troppo poi 6 6 7 bui e quando poi non miglioriamo andiamo a pagare noi l'amore diventa assolutamente nevi meno in generale mi raccomando la lettura sull'opo perché è una di quelle cose che richiamerebbe la nostra attenzione a cose concrete al tavolo e ce ne inventeremmo meno no ok il problema di un giocatore di profilo un po niente un po per player che entra in quelle linee un po fancy che è un po alternative che poi sono difficili da da comprendere come errori sono difficili da correggere alla quale c'è giocatore che ha postato un buio a caso isoliamo una size gigante qui non ho ben capito il motivo di questa size super big comunque col col coli chiamo alla topper a questo punto il piatto c'è sfuggito di mano bet piccola re isolin ma il problema è e adesso cioè cosa facciamo contro un giocatore a caso che ha col colato sette bui su questo bordo cosa può avere certo veramente girarsi ed è impossibile capirne la frequenza 66 77 che ne so 4 4 3 3 o gira sempre visto il borde visto le zero informazione un k migliore del nostro un 5 io direi che viene quello quindi qua pre flop isoliamo pure mettiamo pure i nostri tribùi flop visto che siamo 3 way valutiamo l'idea di mettere ma per chiudere la mano nel senso che non siamo il valore contro niente non siamo un bluff contro niente mi va bene anche cercare lasciare che magari turn caschi un 7 un'altra carta insomma che dopo va magari a migliorare un po la sua equita e voglio mettere turn e river no situazione 3 way con mano specifica su board contro giocatore una mano del genere magari strada e due strade di valore quando ci va bene bettata flop non penso molto considerando rete comunque inizia invece andiamo a bel collare oppo gira capa jack ma lui cosa ha fatto la giocata come avrebbe giocato normalmente finisce che è legittima senz'altro anzi in realtà non è neanche così terribile anche se ha col colato opi dal suo punto di vista è fantastica questa mano perché lui non avrebbe rilanciato qualcun altro ha fatto per noi non avrebbe puntato qualcun altro ha fatto per noi resa e viene pure chiamato ok linea un po fancy che escono da una strada che consiglia iro come si può notare di costruire con un po di criterio così da sapere quando esce dalla sua strategia quel che sta facendo allora qua under the gunfold si e siamo i primi a parlare da qui qui è un'apertura decisamente out of world stiamo aprendo troppo range senza motivo da qui abbiamo fish fish che giocano i pisti di noi e circa non so neanche si chiama di reg ma non perché ce l'abbia con dolce presagio e anch'io un dolce presagio stamattina o dolcissimo presagio e che si sta realizzando in questo momento ma non posso parlarne alla 23 10 3 quindi comunque smart fish chiamiamolo come vogliamo il giocatore bonetti rock chiamiamolo anche lui come vogliamo dobbiamo uscire un po da queste etichette ma comunque tenere la mente per capire i giocatori per capire la dinamica cosa succederà che ok avremo fold equity sui blinds giocatori face up it or false over passivi ma siamo opi contro i due fish con altro vpp che giocano un sacco di mani quindi rinanzare di si alta qua correggia ed errore di giocatori che sono i p quindi loro si troveranno a chiamare più di metà delle volte sono in due no in due questi tizie fanno 80 di vpp quindi la maggior parte delle volte qualcuno chiamerà chiamerà in posizione avanti al nostro range visto che noi abbiamo 10 alta cioè correggiamo i loro errori si troveranno a giocare il loro asso alta o le loro carte un po a caso comunque i bis di noi e noi non abbiamo potere di fold equity che poterlo di fold equity che non funziona non succede perché qui a questo punto abbiamo rilanciato una mano un po a caso esce un board che sembra pure figo e abbiamo quattro punti delle scale da possibilità di colore in realtà un board terribile considerando il reggio degli avversari che tipo di mani itano cosa succede qua cosa facciamo bo check a sto punto mettiamo circa un mezzo po ci chiamano tutti che sembra pure una figata turn jack e cosa facciamo adesso con 30 circa una pot size e mezzo cioè 25 bui di pot 35 dietro a sto punto che facciamo bo check to bet e a questo punto cosa pensiamo di fare non lo so abbiamo il 20 per cento di equiti con la nostra scala nel caso andasse bene potremmo avere un minimo di equiti magari col 10 oppo potrebbe avere una mano con basso 6 ma stiamo andando veramente a scavarci la fossa abbiamo creato un piatto gigante a po quasi rasso 4 ma ce la siamo un po poi andate a cercare su questo board andando pure a cercare tarn e dopo aver lanciato per flop fuori range mettato flop senza criterio si può tranquillamente cercare per poi andare a commettarci perché era uscito le nostre non facciamolo cioè il problema non è non è neanche flop tarn e si è un po lì ma l'errore è un po prima aver rilanciato quella mano che quello che non vogliamo che il futuro accadano errore in chiave positiva ora qua non ho ben capito perché ci chiamo a sedici e suite che è un chilometro avanti al range di fish che limpa e in più reggis regger ed non lo so comunque a 69 nelle statistiche più di una volta quindi anche il mio rispetto comunque profilo di rap che dovremmo conoscere molto bene molto facile a giocare al over l'impatto small blind con quel range ultra cappatissimo che sono sempre mali come 3 3 2 2 qualcosa su internet quelle manili isoliamo serenamente poi su questo borso il piatto non rilanciato check check mini bette a questo punto basta non si può vedere andiamo a resa retan casca treno a mettere caso liber casca picche o verbetto l'in tutto partendo da un piatto l'impatto per flop ok e oppo girasso 5 quindi noi direvo che caspita un genio questo ragazzo c'è un mitico non fonda niente il problema è che noi su un po di un buio in sostanza siamo andati a investire 50 senza un criterio avrei capito rilanciamo pro flop mettiamo questo flop turn non sposta niente oppure anche un po così e se cerchiamo po betta potremmo addirittura volerlo metterlo lì in realtà sul 3 che ne ha qualcuno ma non ne ha tanti perché un 60 0 non è che ha tutti questi tre e questi due nel range di l'imp call ne ha qualcuno ma non ha 7 3 7 2 off suite non ha 6 3 off non ha quelle mani no quando l'incolla quindi in realtà parte qualche 9 tutto il resto è qualche 5 qualche 4 qualche picca e in più un giocatore di profilo un po agro che fu da poco posso capire è esagerato ma io betto flop lascio che ho po betti a caso tar bleffando lo metto lì magari mi chiama lo stesso prendere 5 lo stesso ma verso strange ha senso anche se un po forzata in un piatto l'impatto è tutto al contrario mi raccomando queste linee fancy dovrebbero sparire perché in futuro se ne facciamo verremo a verti o qua abbiamo il nostro covo covo il nostro è un giocatore che segue infatti è talmente saggio che fonda ti seguo fratello tranquillo non sarei mai solo neanche nei momenti imbarazzanti con il bagno allora dinamica small blind vs big blind dobbiamo migliorare un po il nostro blind vs blind di profilo generale dobbiamo sviluppare la nostra strategia dunque un bordo q43 lasciamo stare cosa abbiamo in mano comunque figura e due carte medio basse normalmente red che difende qua non ha tanti quattro non ha tanti tre sia qualche asso quattro asso tre ma non ha 7 3 off 6 3 off 5 3 off 4 3 off ci vogliamo blablabla tutte le parti opposite ha sicuramente qualche donna ma il nostro ring è più forte mi va bene l'idea di bettare ci sono diverse impostazioni di gioco small blind contro big blind ma mi va bene se decidiamo di bettare se decidiamo invece di fulcecare non è proprio il board che andrà a fulcecare comunque questa mano non si è voce a cresa che normalmente non si è cresa tipo mai i flash draw to the nazz all'asso meno che non sia proprio una linea ultra polarizzata ma di solito difficilmente incerta e quindi se si cerca un certo col e possiamo quando creiamo una linea di fulcette teniamo polarizzare un po di più i range quindi magari mettiamo le mani più forte 4 4 3 3 qualche topper che non è quadri per intenderci e possiamo polarizzare i nostri range magari anche se poi forzata perché non pulcecarei una mano come a 5 off suite collasso di cuori di quadri e asso 5 magari collasso di cioè di cuori ma è un po difficile perché non è un board che andrei a bilanciare creando legni di full check e poi mi toccherebbe studiare un quarto d'ora dopo la sessione mi renderebbe tutto complicato no perché per scherzare ma normalmente non andiamo a cresare il draw to the nazz collasso per proprio per questione di blocchere scasso il nostro avversario è vero che il nostro op ha una bett verso smith è abbastanza alta comunque creiamo seguiamo il nostro strato mi va bene la bett mi va bene c'è col op beta 3 andiamo sempre risale lungo po chiama tan migliora range di villa no perché adesso mani come 56 migliorate sostanza l'unico droga se qui è rimasto quello andiamo a cercare tu check river check to call sui river un po forzato credo anche perché 7 migliori sui range 3 in qualche modo o può averne no ma hanno come se 3k 3 beta flop non fold niente chiaramente c'è catarna river casca la sua va a mettare il valore e me l'aspetto più che altro è la flop bett che non mi ha super convinto e va detto in cupop gira 3 e 5 questo più che altro per sollevare l'aspetto ti consiglio vado a vedere il video un po relativi a blind versus blind allo sviluppo dei rendi di bottone contro bb di small blind contro bb così da mettere linea sempre più ottimali poi se questo giocatore veramente aggredisce così tanto inverti pure i range cioè metti due range metti un range che beta è sostanzialmente di tutto valore mani che proseguono e poi polarizzare con qualche mano di black istantaneo e il range invece che difende lasciando che un po sia autobaglio betti to the maximilian ultime mani anche perché sono passate le 8 e mattina mille cose da fare altre per 4 il nostro oppo tribet in size big va bene contro questo giocatore è lo stesso di prima profilo agro in generale va bene oppo chiama su questo board oppo che ha aperto per 4 ma apre il 90 per cento delle mani è ancora abbondantemente dietro non è che a tc un giocatore del genere ovviamente però ha aperto non ha resato pre quindi difficilmente ci gira mani con una cappa per intenderci magari può avere qualche cappa 10 ma sarà un 90 per cento di vtp una cosa del genere buca di vtp di propresa e apre per quattro e chiama magari quando apre per quattro e range non dico che abbia dei jack 2 probabilmente magari a tutta della roba offsuit che in qualche modo può far scala la maggior parte delle combo suite non credo abbia dei jack 5 dei 10 e 5 ma non è possibile giusto per cercare di dare un senso a un gioco che un senso non ha comunque poniamo caso che abbia tutto un range tutte le offsuit che possono in qualche modo far scala un po tante figure di vario tipo su questo board siamo ancora decisamente avanti avendo la donna di quadri mi va bene anche l'idea di cercare ok non avendo la donna di quadri sono molto più dell'idea di bettare per metterlo lì sui tarno visto il profilo fra l'altro non è neanche una bett verso smith è così alta comunque un profilo agro quindi se penso al mio range una mano come k9 quel nome di quadri giusto per capire non credo avrei trimettato k9 ma contro il giocatore capra il sito per scritto direi che farebbe anche soldi comunque una mano come k9 con 9 di quadri quindi una tropea con una set car non fantastica ma che comunque gioca bene sul bordo una mano come jack jack con jack di quadri ok cucù qualcuno di quadri non mi dispiace e qualche asso 10 magari meglio se ho una carta di quadri giusto perché mi dà più equiti posso anche volerla cercare le mani di valore protezione devo mettere soprattutto sono i quadri quindi se avesse a capa cuori la betta molto serenamente una bella forza e topper top kicker ma per intenderci topper che devono difendere sulla texture una mano come a 10 magari collasso di quadri preferisco magari metterla in sexo profilo agro ma devo mettare come termitarna quando esce questo turn non è il miglior turn senz'altro però ancora una mano dove posso metterlo lì in un giocatore con 90 di pp e aspettarmi di essere chiamato da le mani più a caso della storia ma almeno sono io a metterle in valore protezione della mia equiti ogni tanto ricameranno degli 89 ma spesso mi chiameranno non so di giacotto per dire una mano a caso che sicuramente oppure difendere invece cerchiamo ancora un po betta col non abbiamo risato di nuovo river quadri vabbè adesso questo punto che si cerchiamo può per capire quasi la 34 non è solo per i 34 e per la nostra scelta su questo board bette to broke turn è un po sembra un po una linea di over playing ma stiamo parlando di un 90 di vp e p che non ha for betta troppo è vero che non for betta ma la maggior credo che mani come 10 10 99 jack jack 8 8 kk a k quasi sicuramente ce l'avrebbe risata per flop e ricordiamoci a 100 di rilancio questo tizio bette to push turn non avendo i quadri non va bene check qq con cui di cuore di quadri tra l'altro che qui facevamo scala colore ma non è quello il punto è che la donna di quadri ha più board equiti e può lasciare che escano più carte perdendo meno equiti ok linea invertita ultima ma e forse anche per importanza no non è vero comunque limp di un giocatore 50 10 forse lo stesso di prima si è salvo l'enis evocatore del diavolo 50 10 passivo passivo non ci servono altre statistiche un 50 10 50 di foglio 19 di aggraccio freco se è un giocatore l'uso passivo limpa fatta limpa isoliamo 11 bui e questo è un po un problema mi va bene isolare ma difficilmente 11 bui bisognava normale vogliamo 5 bui mi va bene 3 più 1 più 1 possiamo fare uno in più possiamo fare uno in meno a seconda di quello che stiamo facendo vediamo lunghissimo limpa to raise adesso è vero che abbiamo messo mezzo stack giù quindi qua posso capire il gioco la paletta le metto al 33 per cento come faccio a fondare bene facile si fanno sei più piccole se fonda limpa push di fish ci gira su cuoci gira k c gira le per tantissime per non 7 7 5 5 9 9 si gira anche a suas kk senz'altro su queste pot size creata onestamente non so se possiamo con il vero 33 per cento a meno che non abbiamo già nota sa se kk e basta su tante tante mani ma qui siamo andati a creare una size un po a caso per poi andare a chiamare un po a caso quindi ora ho capito how did you bet my mother ok non so perché ho detto questa cosa sciocca alla fine comunque che quali fendiamo proprio proprio la kk lol ma ce l'ho un po ce l'aspettiamo più che altro isoliamo sei più piccole fondiamo no e tante volte abbiamo isolato to call anche mani diverse da questa ma questo era giusto per capire la size in over bet per poi chiamare l'imp push di fish che generalmente tende a girare sempre e solo quelle e ragazzi ok quindi tornando un po a un riassunto generale finale e ottimizzazione un po aderenti dire di resti nel lettura exploitative sui nostri avversari costruzione della nostra strata di cibet nei singoli set pot nel tripe pot costruzione del range di check su lettura esplicativa ottimizzazione del nostro blind versus blind crea creiamo una nostra linea standard e un riadattamento su stats o lettura comunque sui nostri avversari quindi di nuovo torniamo alla nostra linea di profiling sull'opi attribuzione dei range di avversari cerchiamo di committarci un po meno che stiamo pagando una quintalata direi che comunque su un profitto che va bene non è che oltre vbb sono soldi cioè ci mancherebbe ma se facciamo soldi giocando così suo poche mani perché così non così male così come stiamo giocando possiamo farne molto di più ma soprattutto ottimizzare la nostra linea di gioco per il futuro rileverà quindi fammi avere una mail di google fammi sapere come mai scelto questo nick picchissimo ha fatto bene un'ottima idea lo voglio io quindi vendimi il tuo account e vendimi la tua identità e anche la tua anima tranquillo perché c'è un giocatore non ricordo che dov'era e forse era qua no comunque aveva aveva 666 nel nick e quindi ho già evocato creature demoniiche antiche e posso finire il rituale con successo ora ho la tua anima neanche mortal kombat comunque sciocchezze a parte ragazzi io vi saluto per il video di oggi è tutto un saluto alla prossima da lorcai mai mai